Il dolore alla spalla è una delle più frequenti cause di ricorso all'attenzione dell'ortopedico. Spesso è un dolore persistente che inizia in maniera sorda e poi diventa sempre più importante, fino a diventare anche dolore notturno. Una delle cause principali di questo dolore è dato dalla patologia della cuffia dei rotatori, che sono le patologie più frequenti della spalla. I tendini della cuffia dei rotatori vivono al di sotto di uno spazio angusto. Questo spazio angusto è lo spazio che si chiama subacromiale. Questo tendine, vivendo tutta la vita al di sotto di questo spazio angusto, va incontro a fenomeni che spesso sono degenerativi. Se a questo aggiungiamo delle attività lavorative importanti con la mano al di sopra del piano scapolare o delle attività sportive importanti con la mano, con dei gesti ripetuti al di sopra del piano scapolare, questo tendine comincia a soffrire, comincia a dare le sue espressioni cliniche, che sono il dolore e l'incapacità di gestire il movimento completo. Sono tanti i fattori di rischio che possono portare ad un danno tendinio. Sicuramente il dismetabolismo è una delle cose più frequenti, cioè il fatto di avere delle abitudini di vita sane aiutano questo tendine a vivere meglio. Non fumare, per esempio, può essere una indicazione importante per evitare i danni tendinei, ma anche l'utilizzo di una corretta postura, l'utilizzo di un mouse, di una posizione alla scrivania continua in maniera errata può condizionare un contatto preternaturale fra il tendine e l'osso che si chiama cromion e dare dei danni nel tempo a questo tendine.